E' Andrea Ranaldi il vincitore del concorso di idee indetto dal comune di Ponte Caniano-Faiano per l'elaborazione del logo distintivo del progetto Museo Senza Limiti. Il 35enne si è giudicato il premio di 500 euro grazie ad un progetto grafico giudicato perfettamente rispondente ai criteri esplicati nel bando. Nato a Milano, il giovane risiede a Battipaglia dove svolge il ruolo di CEO e Creative Director presso una nota azienda locale. L'idea di Ranaldi è stata selezionata da una giuria presieduta da Luigina Tomai, direttrice del Museo archeologico di Ponte Caniano e formata da Michele Bonomo, ex presidente di Lega Ambiente, Maria Laura Nappi, curatore scientifico del progetto, Francesco Anfuso, direttore artistico del progetto e Luca Coppola, responsabile del settore dell'ente.